Per chi non lo sapesse, Tia Villon scomparve misteriosamente dalla propria abitazione. In quattro anni non è stato possibile raccogliere alcun indizio sulla sua scomparsa. E così, dopo quattro anni dalla sua misteriosa scomparsa, i fedelissimi potranno finalmente vedere con i propri occhi la stanza di Tia, la sua personale sala prove dalla quale l'eccentrico musicista Sparina è nulla. La gente non può sparire così nel nulla. Siamo chiusi dentro. Aprete! Il buio non distrugge ciò che nasconde. La luce! Francesco. Francesco! Verso. Faremo la stessa fine! Basta! È come se, quando si spegne la luce, si spegne sempre la nostra ragione. Ci sono delle telecamere nascoste, Regna. Ma non avete ancora un video? Vai. Non resti tranquilli, crederebbe solo uno stupido scherzo. Ma come fai ancora a pensare che siamo scherzi? È il mio amico! Cosa è scherzo? È il mio amico! È il mio amico! È il mio amico! È il mio amico! Dobbiamo uscire di qui!